Nome? Fabrizio. Cognome? Milan. Età? 23 anni. Dove vivi? A Milano. Il tuo percorso professionale in meno di un minuto? Esperienza bellissima a New York presso la Camera di Commercio e poi ho finito di laurearmi, sono finito qua con questa bellissima realtà, si chiama Engitel, faccio il sales account. Raccontaci la tua giornata di lavoro in meno di un minuto. Beh, principalmente si entra in ufficio di Elena, un direttore commerciale in cui tanti progetti, quindi è bello perché c'è proprio bisogna pensare, c'è molto concept e quindi si cerca di fare dei progetti tecnologici sempre innovativi e poi ci si imbarca a mena tra gli altri 200 progetti che abbiamo sempre aperti cercando di dare sempre il massimo. La tua pillola di saggezza per il futuro? Cercate di essere sempre aperti, cioè sempre proattivi, parlo ai giovani, essendo molto giovane io, un atteggiamento sempre molto disponibile a cercare di dare sempre il massimo anche se le condizioni non sono mai il meglio. Com'è ne?